Bene approdati nuovamente sul mio canale per un video che ho sempre desiderato registrare perché è un video che mi diverte moltissimo guardare ed è quello del Back to School Makeup Version ovviamente e quindi ho deciso di presentarvi questa mia piccola proposta cercando di utilizzare tutti i prodotti low cost molte sono novità, cose che magari ho appena comprato, cose appena uscite tra cui ci sono anche cose che con voi non ho mai messo alla prova e quindi che dire, cominciamo subito allora per prima cosa io vado a disegnarmi le sopracciglia perché ne sono praticamente priva utilizzo la, ormai penso vi sarà venuta nausea, Presidion, il brow pencil di Kiko e quindi Sopracciglia fatte Adesso direi che la bronzatura sta calando Le occhiaie cominciano a farsi vedere Andiamo dei correttori Allora mi sono preparata per quanto riguarda i correttori Due proposte Entrambe low cost Tutti in realtà saranno prodotti low cost E sono il correttore di Revolution Il Conceal and Fine Io ho preso la colorazione C10 Ma a me ancora sembra un pochino troppo chiara E poi il Cancella età di Maybelline La colorazione era la 02 Nude Non si legge più da nessuna parte Perché si è cancellato tantissimo Non è che me lo porto in giro dappertutto No 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 E quindi vorrei provare ad utilizzare questo Perché ancora non l'ho mai provato E quindi mi piace anche l'idea di andare a sperimentare E dei prodotti nuovi qui con voi Quindi niente Fammi resta segno dalla croce E vediamo che combino Ma come il colore non mi sembra male Andiamo a sfumare Allora è molto più liquido del Cancella età di Maybelline Ed è estremamente più leggero Devo dire Sembra anche essere più idratante Perché non mi sembra che mi stia seccando Stia seccando la zona del contorno occhio Io la zona del contorno occhio Ce l'ho tipo carta pecora E lo sapete L'effetto è strepitoso Madonna Viva morta Ci sta piacendo Vedremo ora come si comporta Una volta che lo vado a Fissare con la cipria Andiamo a coprire pure un po' De queste vene qua sopra Che inizia a farmi guardare E niente gente Coprimo l'altra occhiaia E poi proviamo l'effetto cipria Allora anche per quanto riguarda la cipria Ho due proposte fra i miei best Sempre entrambe low cost Una è la super famosissima Brighten Up di Essence Che per fortuna è stata salvata Dall'ultima epurazione E la Stay Matte di Rimmel Un'altra ottima cipria Sempre translucent Quindi trasparente Non da colore E però con una tonalità Leggermente sul caldo Insomma luminoso Così come anche questa Che è un po' giallina Allora Qua le andiamo a usare Delle due Prima le Stay Matte E la sto utilizzando Da meno tempo Anche se ve l'ho già citata Tantissime volte Dunque Io l'ho messo anche un po' Su tutto il viso Per andare ad opacizzare Adesso Proseguiamo Per il make up occhi Voglio provare a fare una cosa Siccome questi ombretti Uno Vabbè questo è quello che mi sta piacendo di più Sono gli ombretti liquidi Della nuova collezione autunnale Io se non c'è una papera a video Non so contenta Della nuova collezione autunnale di Kiko Una collezione che come vi ho detto Anche nel video First Impression Mi sta piacendo da matti Questi erano i prodotti Che mi hanno colpito di più Già appena avevo visto La prima presentazione della collezione E voglio usarli un pochino di più Perché mi sono accorta anche Che a volte faccio il video First Impression E poi non ve li faccio più vedere nel tempo Quindi se magari cambio Opinione O magari Mi performano in modo diverso Mi accorgo di qualche difetto O di qualche prezzo Con l'andare del tempo E quindi perché non Inserirli in più video Andiamo a fare il trucco occhi Con questo Io vorrei usare fondamentalmente questo Non so se poi inserirò anche qualcosa di luminoso Intanto Mi procuro il pennello da sfumatura adatto Io l'altra volta ho utilizzato Questo pennello di Zoeva 2 e 31 Perché è un pennello a fiamma Però con le sedole molto più dense e corte Quindi permette di sfumare in maniera più decisa E di controllare meglio Poi vabbè ognuno sarà Insomma Allora Metto l'ombretto Su tutta la palpebra Vado un po' anche a Definire la forma Che voglio che Abbia Olè E poi Fast and Furious Se sfuma Magari poi cegniamo anche con un altro pennello da sfumatura più ampio Ed ecco qua Praticamente il make up Diciamo che è fatto Ora con il pennello ancora un pochino sporco Vado anche un pochino sotto Rapido indolore Ora perché no Mettiamo un piccolo punto luce All'angolo interno dell'occhio Con questo colore che è bellissimo Sfumo un pochino E siamo praticamente truccate Dunque Mascara Ho preso E non avevo preso Nel primo video che ho fatto Anche il mascara Della collezione Autunnale Non vi ho detto prima La Sicilian Notes Anche se è stato a bocca di tutti In questo momento E è in due colorazioni Sia marrone che nero Io l'ho preso nero Perché ora c'è la promo Nei negozi Kiko Con tutti i mascara Anche quelli delle limite De Dixon A 3,99 euro Quindi Approfittate Lo scovolino È veramente Strano Fatto così Leggermente Incurbato Qua E Qui c'è Tutta una serie di setoline Microscopiche E anche lateralmente Vediamo un po' Che combina Allora Wow Dunque Allo stato attuale Questa mascara È liquidissimo Per quanto riguarda Lo scovolino Credo di aver capito Che possa essere usato Per ottenere Il migliore dei risultati In questo modo Questa parte qua Dà volume E annerisce bene La base delle ciglia La parte Questa qui laterale Dove i pettinini Cioè le setoline Sono molto più lunghe Mi sembra che vada Piuttosto bene Per pettinare Ed allungare E va anche a prendermi Piuttosto bene Quelle Laterali E quelle Verso Il dotto lacrimale Quindi ai due angoli Allora L'effetto Non mi sembra Affatto male A vederlo così Ma qua Mi sono sbrattata Allegramente Non so Voi che mi dite Però Non sembra Azzo Come tutti i mascara Ovviamente Poi mi danno Il meglio Una volta che Si sono un pochino Rappresi Quindi tra una settimanella Potremo ben capire Cosa ci offre Questo mascara Per ora Per ora Non ci dispiace Allora Mascara applicato L'ho messo anche un po' Sulle ciglia Inferiore Adesso andrei a pensare Al resto del viso Dunque Come terra Ho Udite udite Quella della collezione Green Me Voi mi direte Eh ma è una limited Ne trovo più Invece no Perché Kigo L'ha messa in permanente Infatti adesso È proprio A parete Non ci sono Tutti Tutti i pezzi Della collezione Io mi sembra Ho dato una capita Occhiata Ho visto un po' Quali sono I pezzi Che ci sono E che sono stati lasciati Quelli che no Se vi interessa Vi posso fare Un video Dedicato Alla Collezione Green Me In permanente In modo da sapere Bene Quali sono tutti i prodotti Che potete Trovare Sempre E vederli Magari in azione Io ho già fatto Due video Sulla collezione Green Me Uno Il primo anno che uscì E un altro invece Quando la fecero uscire Di nuovo L'anno successivo Ho veramente Diversi prodotti Della collezione Ma tipo Quasi tutti E Posso girarvi Un altro video Con l'elenco Di tutti i prodotti Che trovate E Parlando Insomma Di quelli Con cui mi sono trovata meglio Di quelli che Magari Potete anche Bypassare Fatemi sapere Nei commenti Se vi interessa Intanto Se riesco a ricordarmi Non ho messo In un commento Fissato in alto E magari anche Nell'info box Vi lascio il link Dei altri due video Che ho già tirato Su questa collection Comunque La terra che vado ad utilizzare È la 101 Sweet Honey E questa In permanente C'è Ed è Una terra Neutra Opaca Speriamo che si veda Che modo che mi sono abbronzata Insomma Va bene Va bene Leggera 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 Ma cioè Poi ha un profumo Veramente buonissimo Sa proprio Di dolce Di dolce Punto Bella Mi piace tantissimo Il finish Io vi consiglio Di andare A dare un'occhiata Se non avete mai preso Nulla Della Green Me Perché questo È un prodotto Veramente valido Poi Come blush Ho deciso Di inserire Un altro prodotto Della Sicilian Nodes Perché mi sta piacendo Veramente tanto Forse ne andrò a prendere Anche un altro E questo è uno Di blush In gamma Lo 04 Egg di Wine Il mio gatto Che si lamenta Non so per quale motivo Si è infilato sotto I cuscini E dormì Non è normale Mammi Che hai? Vieni qua Amore mio Vieni qua Mammi Mammi Mamina Vai gara Vai Per 9.000 Abbonanti avventure Dunque Andiamo ad applicare Il blush Madonna I peli che volano Tra l'altro Questo blush Che è un blush Cotto Ed è anche Satinato Quindi luminoso Volendo Vi evita Di usare L'illuminante E io comunque Andrò ad applicare Un illuminante Così ve ne posso Consigliare Uno Questo è Nadecebiano Che guardate Quanto è pigmentato Santo cielo È una cosa Pazzesca Ho bevuto Il vino Vado a scuola Ambriaca Passando All'illuminante Volevo utilizzare Un prodotto Che ho preso Nuovo E non ho ancora Mai provato Che è uno Di questi Quad Di Sempre Revolution Queste Di I Heart Revolution O I Love Revolution Non ho mai capito bene Come si chiama Sono gli Sprinkles Ognuno C'è il nome Di un dolcetto E questo È Confetti Cookie Sempre Con il magico Pennello Di Amessati A Beverly Hills Andiamo A prendere Questo qua Più chiaro Ecco Senza Esagerare Wow Non vedi E io ci sto Andando Leggera 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 Vede Visto Quanto Scaricato Questi Stop Power Illuminante Fatto Ora Ci mancano Le labbra Ho preso Un altro Prodotto Sempre Della Sicilia Nodes Il video Potrei Chiamare Il resto Della Sicilia Nodes Comunque La matita labbra Perché avevo detto Che mi incuriosiva Che comunque L'avrei presa Alla fine La differenza Di peso Che tanto Dicevano Non è tantissima Perché Questa è 0,3 Grammi L'altra 0,35 Cioè Proprio Una cosa Minima Però Il colore È talmente Bello Non ce la Potevo Fà Allora La mina Per ora È salva Non mi Si è Spezzata Madonna Quanto è Bello Questo colore È stupendo Poi Anche Per quanto Riguarda Ma cos'è Un rospo Poi Anche Per quanto Riguarda Le labbra Ho Diverse Proposte Dunque Uno È sempre Il gloss Della Sicilian Notes Lo 01 Che è Un colore Pescato Poi Questo Di Catrice Che anche Ora che sono Terminati i saldi Ho visto Sono rimasti Nello stand Questi E Mi interessano Molto Ancora Non li ho provati Quindi sarebbe Carino Provarli Con voi E poi Un'altra proposta Che mi sembra Interessante È Questo Rossetto Di Sephora Che è Un prodotto Molto Idratante Lucido Di facile Riapplicazione E Io preferirei Insomma In una circostanza Come quella Scolastica Io Mi Sto immaginando Liceo Perché Alle medie Io per esempio Non mi truccavo Proprio Alle medie Ma Zero Carbonella Ho cominciato A truccarmi Verso Il primo Liceo Poi Non so Adesso Come vanno Le cose E Mi sembra La cosa Più Semplice Più Pratica Da Utilizzare E Inoltre Mantiene Le labbra Idratate Idem Questo Che è Comunque Un burro Labbra Però Che rimane Colorato Ed anche Discretamente Pigmentato E poi Il classico Gloss Visto Che gli altri Due prodotti Comunque Li ho già Provati In altri Video Voglio Andare A vedere Come Si comporta Questo Ci sono Cinque Sei Colori Mi Sembra Diversi È veramente Molto morbido Non è appiccicoso È abbastanza Sottile La La texture E Mi piace L'effetto Che dà Le labbra Perché Le rende Veramente Molto Polpose Che è un effetto Che voi Sapete A me Piace Sempre Tanto Si Si Mi piace Mi piace Devo dire Come prima Impressione Io ve lo Consiglierei Vi dico Qual è il colore Che ho Io Che è 020 Left Due Di Dopo di ciò Andiamo a darci una fissatina Utilizzo Questo Di Makeup Revolution Pro Base Acqua Priming Base Base Prime E ritratante Ma va benissimo Anche per fissare C'è un odore De profumo De nonna Però Sto coso Un po' Antico Stranissimo Comunque A me Il risultato Finale Piace Veramente Un sacco È un Look Molto Naturale Neutro Ma caldo Che ti dà Subito Una botta De vita Con l'illuminante All'angolo Interno Dell'occhio Il colore Comunque È un Colore Caldo Un Colore Mattone Pescato Rosato Che va Benissimo Con Quasi Tutti I tipi Di Incarnato Yas Abbiamo Terminato Questa È la mia Proposta Back To School Vi assicuro Che per fare Il look Ci vuole Molto Meno Tempo Di quanto Il video È durato Solo che Io Ho dovuto Spiegare Poi Mi sono messa Giggia Poi Mi sono messa Cagolacchia Che rampiccia E come al solito Logorrea Portami Comunque Fatemi sapere Cosa Ne pensate Di questo Look Se intendete Replicarlo O meno Mandatevi le foto In direct Su Instagram Iscrivetevi Su Instagram E Restate Connessi Perché Stiamo salendo Con gli iscritti Grazie a tutti I nuovi Arrivati E Verso I 500 Iscritti Potrebbe Prepararsi Una Sorpresina Con questo Veramente È tutto Vi saluto E ci vediamo Al prossimo Video E buon Primo giorno Di scuola A tutti Miau Miau